Bella a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, Natale alle porte, mancheranno sienno uno o due giorni, dipende da quando questo video si caricherà sull'internet. Comunque sia, durante le vacanze di Natale tutti noi siamo con amici, parenti, mangiamo un sacco, ci riposiamo e anch'io farò questo. Per queste vacanze fino al 7 o forse fino a capodanno mi prendo una pausa dei video, mi prendo una pausa anche perché il programma che usavo per registrare i video, no per registrare, per montare i video è scaduto e ho deciso che voglio ricomprarlo perché mi serve, effettivamente mi serve. Probabilmente col Natale costerà anche un po' meno, quindi non vedo perché non comprarlo. Comunque sia, auguro a tutti voi di passare delle belle feste e noi ci vediamo il prossimo anno. Sì, è proprio una battuta squalida. Oh ciao, ci vediamo il prossimo anno, quando ve lo fanno a capodanno, eh? Bello. Un cazzottone in faccia e lo mangia a dormire fino al prossimo di anno però. Comunque sia, passate delle belle vacanze, state con amici, parenti, con quelli che volete, state anche soli, se vi piace stare soli, state soli. Rimanete a casa, dormite, mangiate, divertitevi. Noi ci vediamo il prossimo anno, bella ragazza!